Bellassi ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video In questo video vi farò vedere 12 creature riprese da una telecamera Quindi creature o mostri come potete chiamare voi Dopo scrivetemi nei commenti cosa ne pensate Se secondo voi sono vere o quali sono vere Ok raga adesso vediamo questa immagine qua Che è in pratica un animale che è stato Cioè questo mostro che è stato avvistato o al polo nord o al polo sud Non si vede mica molto bene però Se c'ha delle braccia o delle cose si vede di più Che c'ha tipo le gambe e forse un po' la faccia Poi in questo qua è successo credo in Cina E è successo quando c'era uno tsunami in uragano Che viene ogni 600 anni E ha ucciso 16.000 persone E 2.000 persone non sono ancora state ritrovate E questa qui è la foto migliore Ce ne sono anche altre Però qua si vede proprio bene questo mostro in pratica Che sta volando nel cielo Vi ricordo di non chiedermi nomi di mostri Perché io non ne conosco neanche uno Tra questi che vi faccio vedere adesso Poi c'è questo che è stato avvistato in questo fiume In mezzo a questo fiume sembra Vabbè e non si Cioè secondo me E anche secondo altri Potrebbe anche essere un sottomarino Però è difficile che lo sia Perché mica vanno in posti così bassi sottomarini Cioè secondo me è basso questo fondale Quindi non ci starebbero neanche E poi non servirebbe neanche Vi farei vedere il video Perché proprio si vede solamente lui Queste cose qui Queste tre punte Che escono un po' dall'acqua E dopo un attimo ritornano Non si spariscono in pratica Poi questo qui è un animale Che si pensa che sia anche della preistoria E sembra Vedete che ha tutte queste punte E sembra anche questo qua Adesso si vede meglio In questa immagine qui Che secondo me è un animale Anche della preistoria Perché Cioè vedete che ha Tutte le forme Le caratteristiche Di un animale tipo Di gnosauri Così È stato anche avvistato In questa foto qua Come potete vedere E si pensa Che viva Ancora nei boschi Perché non sono mica Stati solo questi due avvistamenti Molti altri Che sembrano proprio Anche veri Poi questo È stato successo in Cina E se è vera Questa cosa È perché gli alieni Vogliono In pratica Far diventare la Cina La loro Base Come dire E Non Se andate a cercare Nei tutti Dei giornali Notiziari Della Cina Roba del genere Non hanno fatto Vedere niente Perché Volevano tenere La Cosa segreta Se ingrandiamo Se ingrandiamo un po' Zoomiamo L'immagine Si vedono Che tipo Ci sono quei puntini Ma se andiamo qua Si vedono Che ci sono due Aerei E L'elicotteri Quindi Cioè In questo punto qua Non è che si veda molto Però Se tu zoomi tanto Puoi anche vedere Come si vedono In questa foto Poi questo qua È un altro Animale Cioè Mostro Che ha due Tipo Cosi che fanno Del rumore Due Luci Tipo Una roba del genere Qui sopra E Mi mette un suono Che a volte Ti può anche Assordare È stato avvistato Ben tre volte Questa Questa qui Che si vede qui dietro Un po' difficile da vedere E Poi Anche In questa immagine qua Che è stata fatta Da un turista Che Ha filmato Dopo un po' Si è spaventato E Si vede proprio Che si gira Si vede la sua faccia Nel video E dopo Corre via Però Potrebbe anche Averla aggiunto Questo mostro qua Cioè Con photoshop Queste robe qua Cioè Le fai anche Abbastanza facilmente Poi Questo qua È un ragno Gigante In pratica Che è stato avvistato Da Un uomo Che viveva In questo condominio Si è svegliato La mattina Presto Ha guardato fuori Ha visto questo Mega ragno qua Gigante Che sbucava fuori Dai giardini Qui sotto In questo punto qua Dalle piante Quindi Ha preso la telecamera E ha iniziato A filmarlo E Dopo Non è mica Sato avvistato Solo qua Sato avvistato Solo però Due volte Anche qui È stato Cioè Non so se si vede Molto bene In questo punto qua E si pensa Che anche Abbia tipo Di collegamenti Con lo slenderman Potrebbe essere Tipo una specie Di slenderman Comunque Secondo me Non molto Perché è un ragno Gigante Però Potrebbe anche Essere Poi questo Questa qua Molto facilmente È Fake Perché Cioè Questo Womos Nel video Si vede che Prende la telecamera E guarda fuori Dal finestrino Di un aereo E vede Questo Essere qui Questo qua Che Inizia A comparire Proprio Là in fondo Piccolissimo Che non si vede Quasi neanche Che dopo Viene sempre Più vicino Allo specchietto E dopo Inizia Ad andare avanti E tipo Supera l'aereo Adesso Da qua Cioè Probabilmente I mostri Sono fake Perché Adesso Intanto Perché è difficile Che siano queste cose qua Questo qua È Stato filmato Tipo Da due persone E È L'immagine più bella Io vi falto sempre L'immagine più belle Che si possano Vedere Di queste Questi mostri In pratica Cioè Qui si può vedere In pratica Questo Che sta camminando Però è gigante Magari dalla foto Non è che si veda molto Però è grandissimo E il fatto Che abbiamo visto In solo due persone In questo posto Tutto piatto È un po' Difficile Dovrebbe averlo visto Anche molte altre persone A meno che Non hanno mica Voluto tenere segreto Poi Questo qua Questo qua C'è Dai Il facile Che è fake Comunque È stato Avvistato In queste montagne Vedete Che c'è anche La neve E tutto Dopo questo qua C'è Cioè Dai Scrivetemi Nei commenti Sto qua Quali proprio Che mi scrivete Di su qua Per me Per me Questo qua È 100% Fake Perché Guardate Un secondo Sono due Caratture C'è più tre cose Allora Perché c'è un uomo qua Che non si spaventa E poi E poi Altre cose Questo qua Proprio si vede Che è tipo Stato Aggiunto Che non è Una roba Proprio Fatta bene È stato Trovato Una foto Su internet Ritagliata Ho fatto Qualcuno L'ha creata E dopo L'ha aggiunta Lì E poi Anche Qualità Dell'immagine È difficile Che sia Vera Comunque Queste immagini Qua Specialmente Questa qui C'erano Molto Su internet Se potete Cercare Foto Di mostri Li trovate Anche Tipo Nel Nel Google Tipo Nelle immagini Di Google Poi Questo qua Che è Anche L'ultimo Sì L'ultimo Questo qua Vabbè Dai Fake Questo qua Probabilmente Vabbè È stato Avvistato In questo posto Che nemmeno so Che posto È questo Cioè Vedete Non si capisce Neanche qual è Il detto Di questo Mostro Qua Cioè Forse Tipo Questo Questo Che l'occhio Boh Non capisco Bene Raga Spero Che questo Video Qua Vi sia Paciuto Che vi sia Anche Utile Per Delle informazioni Che vi Possono Servire E Cose Importanti Iscrivetevi Al canale Lasciate Like Attivate La campanella Per non Perdervi Nessun Altro Video E non Faccio Mica Solo Video Di questo Tipo Se è Il primo Video Che vedete Di me Ho Aperto Da poco Anche Il canale Farò Video Di Videogiochi Di Salti Cioè Video Di Anche Informazioni Utili E robe Del genere Così Ah E Un'altra Cosa Importante Da fare Condividete Il video Con tutti I vostri Amici Così Almeno Sapranno Anche Loro Queste Informazioni Magari Potranno Mettere Dei Commenti A Questo Video E Così Sapremo Tutti Cosa Ne pensano Tutte Le Altre Persone Di Questi Mostri In Pratica E Ciao E Ci vediamo Nel prossimo Video Ciao